Quest'oggi abbiamo incassato 10.000 Euro perché purtroppo gli accordi prevedevano che solamente i lotti aggiudicati in Italia fossero devoluti al comitato Teleton. L'importante è che abbiano costituito la prima base del numeratore all'inizio della maratona televisiva del 14, 15 e 16 dicembre. Ciao, felicissimi perché grazie a questo evento abbiamo aiutato tante nobilissime cause e fondazioni in giro più del mondo. Siamo felicissimi perché è il tartufo più grande mai trovato in Toscana, un tartufo bianco pregiato. Il tartufo del secolo è stato venduto a Macao, a Macao hanno offerto 330 e va bene, si sono fermati. In ogni modo siamo felicissimi perché a questo punto abbiamo due record, cioè il record del tartufo più grande mai trovato al mondo, un tartufo bianco pregiato e il record del tartufo più caro al mondo. È molto importante che grazie a questo evento riusciamo ogni anno ad aiutare a tantissime fondazioni in giro per il mondo. Quest'anno ancora Teleton, poi il Consortium of Street Children, i bambini della strada di Londra, la Caritas di Macao e le Special Olympics di Macao. Tutte cause nobilissime che grazie a questo evento aiutiamo ogni anno a sostenere queste diverse fondazioni. Ground temperature at the airport is 46 degrees, but who gives a shit because nobody lives down by the airport? Allora posso? In realtà il signore che ha compiato nel tartufo, che si chiama Oh, non voleva comprarlo. Che quando sono arrivati a 320 mila dollari, tutti hanno fatto Oh, lui si è girato, eh? C'è 330 e gli hanno dato.